Attenzione ai territori, ascolto delle istanze, sblocco di fondi e turnover. Il tavolo tecnico convocato ieri presso il centro direzionale di Napoli dal commissario di governo per la sanità, Joseph Polimeni, ha dato i suoi primi frutti. E' soddisfatto il neocoordinatore di Cittadinanza Attiva Sapri, Lorenzo Latella, per la possibilità di avere un interlocutore e tempi certi sulle problematiche sanitarie. Cittadinanza Attiva Campania e con rappresentanza anche di Sapri parteciperà ad una serie di tavoli di confronto con il commissario potendo in molti casi addirittura dettare gli ordini del giorno. Avremo una sorta di question time, noi porremo una serie di questioni molto puntuali sui territori e avremo in tempo reale la risposta, quindi con tempi certi concerteremo insieme le azioni da fare. A Polimeni sono state rappresentate le principali criticità dell'ospedale Immacolata di Sapri, l'emergenza urgenza con la necessità di estendere la copertura H24 anche ai luoghi periferici, l'adeguamento strutturale di alcuni reparti, la questione personale, la necessità di rinnovare le attrezzature e l'organizzazione dei servizi. Ci sono state date delle buone notizie, ieri come lo sblocco di circa 1600 assunzioni tra personale medico e paramedico e soprattutto lo sblocco dei fondi dell'ex articolo 20 legge 68 che sono fondi strutturali, quindi quei fondi che potrebbero consentire l'ultimazione dei lavori per l'ospedale di Sapri e la messa in sicurezza del pronto soccorso, della tanatologia, della radiologia, dello spostamento della gastroenterologia. Intanto le azioni poste in essere da cittadinanza attiva hanno prodotto l'arrivo in radiologia del nuovo pensile mobile, del toco e dell'animatore. Inoltre gli anestesisti in fase di trasferimento in altre strutture svolgeranno il loro servizio presso il presidio di Sapri fino ad arrivo dei sostituti.